Buongiorno e bentornati sul mio canale. Come avrete capito già dal titolo, oggi vorrei vedere insieme a voi le news più importanti degli ultimi giorni per quanto riguarda la Germania, magari vedere gli aggiornamenti sulle proteste che abbiamo visto l'altra settimana, poi insomma facciamo un po' il punto della situazione per cosa sta succedendo, perché eccetera. Partirei subito con lo sciopero di Lufthansa perché nei giorni scorsi il personale di Lufthansa ha iniziato a protestare contro l'offerta diciamo che Lufthansa fa ai suoi collaboratori. Si è partiti con lo sciopero dei piloti di Discover Airlines che è una filiata di Lufthansa per poi continuare con lo sciopero del personale a terra e secondo il portavozio del sindacato Verdi, che non ha niente a che fare col partito, ben 7 mila persone hanno partecipato a questo sciopero con i punti Cardine, Monaco e Francoforte che sono appunto due grandi aeroporti. Il personale chiede il 12,5% di aumento dello stipendio, almeno 500 euro al mese per un periodo di 12 mesi in aggiunta e un bonus compensazione per l'inflazione che sia una tantum di 3 mila euro. Il prossimo round di negoziati è previsto per questa settimana quindi vedremo come andrà avanti. Solo su Monaco sono andati a mancare in una giornata 400 voli e Francoforte 500 voli e in tutta la Germania circa il 90% dei voli è stato cancellato perché appunto non c'era personale necessario. E siccome non bastava la protesta all'aeroporto di Francoforte del personale di Lufthansa, gli agricoltori si sono aggiunti e sono andati a protestare tra gli altri posti all'aeroporto di Francoforte bloccandolo. Quindi chi doveva viaggiare negli ultimi giorni si è fatto il segno della croce. Comunque gli agricoltori non possiamo dire che abbiano torto e hanno iniziato anche a protestare senza preavviso. Quindi ci sono stati degli eventi come ad esempio al porto di Brema dove un centinaio di agricoltori sono arrivati e hanno bloccato gli ingressi al porto per manifestare senza prima chiedere un'autorizzazione e il porto di Brema è uno dei più grossi per chi non l'avesse mai visto. Poi un'altra protesta non preannunciata è stata fatta da circa 400 agricoltori a Kempten alla sede del centro mediatico Algoia Zeitung che è un giornale e le loro proteste in questo caso erano dirette sia contro la politica agricola attuale ma anche di come ne parlano i mass media. In effetti se ci pensate in Italia per settimane ad esempio non è stato riportato assolutamente niente. Poi c'è stata un'altra protesta sempre da parte degli agricoltori davanti al centro logistico di Kaufland vicino a Berlino a Lübenau dove l'ingresso e l'uscita al centro logistico sono state bloccate. Kaufland è uno dei principali supermercati in Germania. La protesta appunto è stata diciamo messa in piedi durante la notte e quindi la polizia ha avuto bisogno di tempo per far andare via tutti i trattori perché appunto non erano pochi. Un'altra protesta non preannunciata ha trovato luogo nel Baden-Württemberg dove degli agricoltori hanno impedito al ministro Kretschmann di continuare il viaggio che stava facendo insomma di rappresentanza perché si trovava ad un parco eolico vicino a Stuttgart. Diversi trattori sono arrivati hanno praticamente bloccato questo parco eolico e pare che poi appunto il presidente del Baden-Württemberg si sia fermato a discutere con gli agricoltori. Come andranno a finire queste proteste degli agricoltori non lo sappiamo comunque nel tempo vi terrò aggiornati perché secondo me è una tematica importante. Ma proseguiamo con la CO2 Steuer quindi la tassa sulla CO2 che secondo l'Europa deve essere inasprita e quindi ci devono essere degli standard più severi sia per i camion che per i bus. È stato raggiunto un accordo sembrava che la Germania si sarebbe astenuta perché c'era il Dipartimento dei Trasporti di Volka Wissing che appunto è parte del partito FDP non era convinto delle proposte dell'Unione Europea e poi all'ultimo minuto poco prima dell'incontro cruciale a Bruxelles hanno rinunciato e quindi hanno detto va bene ok accettiamo questi requisiti. L'Europa vorrebbe che le emissioni di CO2 di autobus e camion diminuissero del 90% entro il 2024 rispetto alle emissioni del 2019 non so perché hanno preso il 2019 non il 2023 ma comunque. Più precisamente poi il 90% delle flotte dovrebbe essere composto da veicoli elettrici o a idrogeno verde solamente il 10% potrà restare a diesel quindi questo accordo concordato dagli stati dovrà essere approvato dalla sessione plenaria del Parlamento Europeo. Perciò secondo me ci possiamo aspettare altre dimostrazioni, blocchi da parte di chi ha delle piccole medie logistiche perché è questo il problema. Le aziende enormi, le multinazionali non avranno dei grandi problemi a seguire insomma le varie linee guida, si ha un capitale importante non è problematico fare dei cambiamenti ma voi vi dovete immaginare delle piccole e medie aziende sia di logistica ma anche se vogliamo parlare degli agricoltori hanno dei problemi. Chi dice no è giusto così perché c'è la transizione ecologica, perché non è rentable supportare i piccoli agricoltori. Però ragazzi non stiamo parlando di business, cioè è chiaro che si parla di business per l'Europa ma parliamo di esseri umani. Quante piccole e medie aziende ci sono? Questo dovremmo avere sempre nel background quando pensiamo a queste problematiche ed arriviamo così ad un altro tema molto discusso nelle ultime settimane ossia le proteste contro il razzismo, l'estremismo di destra e l'estremismo diciamo più in generale. Una delle organizzatrici di queste proteste ha detto una frase che mi è piaciuta e che voglio riportarvi e dice che la democrazia è una conquista, non è scontata e non è inviolabile, dobbiamo difenderla. Questo non va contro solamente al fatto del AFD, ok? Perché c'erano persone tra di voi che dicevano a me piace l'AFD ma non c'è niente di male, ognuno poi vota il partito che si sente. Non penso neanche che all'interno del partito possiamo definire tutti bravi o tutti cattivi. È però un sentimento importante per la Germania questa cosa del combattere contro l'estremismo perché voi dovete immaginarvi che dopo la seconda guerra mondiale ai tedeschi è sempre rimasta un po' la ferita il sentirsi definire nazi dagli altri appena facevano un passo sbagliato. Ed è un sentimento difficile da descrivere a chi in Germania non ha mai vissuto. Non è paragonabile alle dimostrazioni contro il fascismo che vabbè secondo me trovano un po' il tempo che trovano in Italia francamente. È una cosa un po' più importante, un po' più forse potrei definirla pesante. È circa un mese che va avanti questa ondata di proteste e appunto sono tantissime migliaia di persone che si radunano ogni volta. Pensate che qualche giorno fa a Berlino secondo i dati della polizia ben 150.000 persone si sono radunate davanti al palazzo del Reichstag, quindi del Parlamento e a Monaco domenica 11 febbraio si sono radunate ben 100.000 persone. Dove viene fatto l'Octoberfest normalmente, le famose Theresienwiese, erano un mare di luci, come vedete dalle foto, e l'attivista per i diritti umani e portavoce di questa protesta, Dützentekkel, ha detto questa frase Quindi dobbiamo porci la domanda Per i tedeschi vi assicuro che questa è una tematica molto importante ed è per questo che ci sono tante dimostrazioni. Qualcuno diceva sono pilotate, non lo so perché c'è tantissima gente normale, comune come me, come voi, che va a queste proteste. Può essere che da qualche parte siano pilotate ma tantissima gente ci va volontariamente, non vengono a prendervi a casa per andare appunto a queste demo. Vorrei concludere questo video con un pensiero perché sotto agli altri video c'erano diversi commenti di persone che dicevano dimostrare non serve a niente e io non sono d'accordo con questa cosa perché fare sentire la propria voce è sempre importante. Noi spesso ci dimentichiamo la forza che si ha quando si è in tanti, quando si è insieme. Se sono io da sola che vado a protestare in una piazza non mi nota nessuno, ma se sono io con altre centomila persone capite che fa la differenza. In aggiunta c'è anche una legge, l'articolo 8 del Grundgesetz che è stata fatta nel 1949, pensate, che dice che tutti i tedeschi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, senza preavviso o permesso. Quindi non solo è importante far sentire la propria voce, ma il protestare, il fare delle dimostrazioni è proprio un diritto, perlomeno in Germania. È giusto che se qualcuno non è d'accordo con delle decisioni della Germania, dell'Europa, di qualsiasi tipo, faccia sentire le proprie ragioni e spero che la maggior parte di voi sia d'accordo con questo punto di vista. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate come sempre nei commenti senza insultare nessuno perché siamo qui per esporre dei fatti, non per prendere le posizioni di questo o di quello e queste secondo me sono delle proteste importanti che appunto stanno avvenendo in questi giorni. Se il video vi è piaciuto come sempre pollice in su, iscrivetevi al canale se vi va, se vi piacciono i miei contenuti e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!